L'opposizione aveva contestato solo due giorni fa il piano previsto dal project financing presentato dalla Maltauro per la realizzazione del nuovo ospedale di Chieti. Un centro commerciale con 28 negozi, nessun nuovo posto letto, nessuna nuova unità operativa aggiuntiva e una spesa che avrebbe legato la regione Abruzzo per 30 anni a quella società. Inoltre, secondo il consigliere di Forza Italia Mauro Febo, a rischio sarebbero stati anche i posti di lavoro attualmente occupati destinati a finire in mano alle cooperative. A rispondere oggi in una conferenza congiunta sono il governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e l'assessore alla sanità, Silvio Paolucci. Che la procedura riguardante Chieti è una procedura fortemente evoluta dall'ordinamento, noi andremo fino in fondo nel senso di tutte le verifiche che l'ordinamento contempla, poiché non abbiamo in odio l'iniziativa del privato e abbiamo a forte livello di passione che quella cittadella ospedaliera rinasca con tutti i comfort, gli standard di utilizzo della tecnologia e le certezze di qualità per il cittadino paziente. Poi personalmente ho una cultura liberale, iper liberale, dove è possibile, mi voglio trovare dall'altra parte un imprenditore che rispettando tutte le regole partecipi competitivamente a risolvere i problemi della pubblica amministrazione. Saremo implacabili anche nella lettura puntuale dell'ultimo miglio, però definita la lettura puntuale dell'ultimo miglio, stabilito l'interesse si farà la gara d'appalto e chi farà la migliore offerta si aggiudica l'opera. Per cui su questo involontariamente sono state dette e trascritte inesattezze che non trovano corrispondenza nell'ordinamento. Un'altra questione che è stata posta all'attenzione dall'opposizione è il fatto che non ci siano nuove unità operative né nuovi posti letto nel project financing. Sono sciocchezze perché il programma sanitario parla chiaro, vi è l'intenzione di costituire un DEA di secondo livello in connessione funzionale tra Chieti e Pescara e dunque ci sarà un lavoro della giunta regionale con un gruppo di lavoro scientifico e tecnico che realizzerà questo grande obiettivo perché l'Abruzzo ne ha bisogno e la regione Abruzzo merita un DEA di secondo livello.